Buongiorno, benvenuti. Intanto voglio ringraziare il comune per la possibilità di fare questa mostra. Innanzitutto avete potuto organizzare una serata che ha permesso di fare questa mostra. Diciamo che a dieci anni siamo abbastanza... Abbiamo ancora un'idea che è venuta da una persona in realtà semplicitante di riuscire a fare una cosa come un estremone. Cioè, avere il discorso e riuscire a fare un meglio. Ma io anche per tutti. Questo è davvero molto interessante. Se potrebbe vedere il discorso di riuscire a farlo. Nel frattempo sono riuscire a fare questa mostra. Io sono molto curioso perché ci sono dei miei politici all'interno per cui io sono molto contento della risultata del lavoro. Do la parola al sindaco. Tant'altro ringrazio di essere qui. Soprattutto è una vita anche del nostro territorio e dando la disponibilità di queste iniziative. Abbiamo una fotografia veramente bella e che è disponibile a tutti. e questo ci dà anche visibilità, non solo pagherina, ma anche su altri territori che qualcuno conosce nella verità che abbiamo in interno, soprattutto nell'arco e anche nella villa. e speriamo che continui questa bella manifestazione come il territorio che è già dici anni. Sono presenti sul territorio. Niente, io ringrazio tutti voi di essere qui nella nostra disponibilità come amministrazione per la nostra disponibilità. Sì, 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 sì. Siete poi in due per cui non serve. Non c'è problema. Non c'è possibilità di trovare dentro. No, no, no. Ho detto che... No, no. Di Buston'U'U'U'U'U'U'U'U'. Sì, grazie. Ho detto che io facciamo la garanzia totale della nostra disponibilità. Grazie. Io posso far interpassare la parola di Ulice? Buongiorno a tutti. Grazie. Grazie al Presidente dell'U'U'U'U'U'. ricordava prima che sono dieci anni che fanno delle manedezze, però è stato il fatto che gli otto anni hanno avuto un po' in segreto, l'hanno fatto in tra di loro, quindi avendo noi conosciuto questa loro iniziativa, quindi abbiamo voluto implementarla, quindi abbiamo portato anche il nostro cittadino Scappini a Guigi, con i suoi compagni di Torri, e quindi abbiamo promesso che ci sono le basi per poter continuare, per proteggere il bar per quello del Paese. Io vorrei prendere spunto da questa vostra associazione che si chiama Liberamente, quindi direi che siamo liberi liberamente o liberi finalmente, perché questa nostra non è che ormai da due anni come siamo fuori, giallo, verde, rosso, rosso, giallo, verde, oggi siamo bianchi, quindi ci teniamo ad esserlo, quindi nel rispetto delle normative abbiamo questa nostra, che abbiamo questi tercelli, ci auguriamo e crediamo che siamo tutti consapevoli di quello che abbiamo e che stiamo vivendo, quindi io ringrazio il cuore nuovamente a voi, ringrazio il sindaco, l'amministrazione, parte di un altro, quindi mi impegno, ve lo chiediamo a voi, di esserci e di continuare con la nostra risoluzione, grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi. 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 Grazie a voi.